Un buon risultato per la sua coalizione? Un buon risultato è quello che ci aspettavamo, un ottimo risultato è quello che abbiamo ottenuto, risultato frutto del lavoro svolto in questi anni, un lavoro ben fatto dentro le istituzioni, un lavoro di rappresentanza, un lavoro di proposta, ma un grandissimo lavoro fatto soprattutto fuori, perché la politica non finisce nel palazzo, ma deve andare nelle strade, deve andare ad incontrare le persone, ad ascoltare i bisogni e tradurli poi in risposte concrete. Questo è quello che noi abbiamo fatto in tutti questi anni ed è il motivo per cui abbiamo messo in campo una proposta alternativa, alternativa a due blocchi che ci sembravano troppo simili a se stessi. Quindi la coalizione dell'alternativa con Carmine Adolonzo Sindaco ha interpretato questa volontà della città, una volontà di andare oltre quella che è la politica classica, di scendere per strada, da parlare a tu per tu con i cittadini, è quello che abbiamo fatto e credo che per questo i cittadini ci abbiano premiati. A Barletta si va al ballottaggio, e adesso? Adesso c'è da prendere atto che in politica non si parte mai come vincitori certi, chi parte come vincitore certo quasi sempre resta deluso. vale per l'ex sindaco Cannito che perde migliaia di voti rispetto a qualche anno fa, vale anche per Santa Scommegna che pensava di essere stata prescelta da qualcuno e soltanto per questo di poter vincere al primo turno. Così non è stato, adesso questa bella doccia fredda spero li faccia tornare entrambi con i piedi per terra e spero che loro provino adesso a spiegare alla città in cosa sono diversi, che cosa li differenzia, perché invece i cittadini che abbiamo incontrato in questi giorni, in queste settimane, ci hanno detto che ai loro occhi i due candidati sono molto simili. Ma l'ottaggio ai suoi elettori adesso cosa dice? I nostri elettori innanzitutto sono interessati a confrontarsi con noi, a dirci quello che loro pensano, noi li ascolteremo, ma soprattutto ascolteremo come detto quello che hanno da dire i due contendenti, coloro che sono arrivati al ballottaggio. Fateci una proposta, fateci capire che cosa volete proporre, cosa volete portare nella città di Barletta, perché ad oggi questo non c'è chiaro. Fateci capire perché i cittadini barlettani dovrebbero votarli, votarvi. Altrimenti io temo che molti sceglieranno proprio di non recarsi alle urne.